Alex, non sei simpatico, non fai ridere nessuno. Anna, hai cambiato gioco? Ma certamente, che me lo chiedi a fare. Allora, io nel frattempo, mentre siamo qui, son lillo. No. Ma come son lì? Come son lì? Oh, 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 oh. Dai, così alimenti la chat. Dai, Chico si stava strozzando. Chico! Chico, no, non per crozzarti. Stavo bevendo. Abbiamo Coca-Cola, lì, tutto nella scrivania. Son lillo. Aspetta, ora lo faccio anche più grande, così è più lillo. Lillone. Sono lillone. Ma basta! Posso anche romperlo un po', però devo tenere GTA bene, se no non carica, perché sto gioco è infido. Le sputavano con la cosetta vecchia, della tastiera vecchia lì. Era brutto, era brutto. Eh sì, di brutto. Allora, vediamo se lo possiamo migliorare, eh, il signor Lillo.